Il microcredito mi ha servito per ricominciare innanzitutto, perché veramente è importante per me. Stefano Pacitti, io sono personalmente incisore, la mia attività è un'attività di famiglia e oggi affidata a me e portata avanti da me, spero con altrettanta qualità e successo. È un'attività, la mia è improntata soprattutto nella produzione di articoli unici, di pezzi unici e molto nel campo religioso, con uno sguardo al futuro, quindi di fare interagire le mie capacità manuali nate dall'esperienza fatta sul campo e integrata dalle grandi possibilità che oggi la tecnologia ci mette a disposizione. La conoscenza del microcredito a Roma Capitale è molto semplice e banale, forse è la cosa poi pure più logica. Fermo al semaforo, sul Vespone, ho girato la testa e ho letto microcredito del comune di Roma per le piccole imprese e tutto quanto così. Il manifesto. Ho preso il telefonino e ho scattato una foto. Dopodiché tornato al negozio, me la sono riguardata bene e ho cominciato, ho detto e perché no? Il microcredito mi è servito, mi serve, mi è servito per ricominciare innanzitutto, perché veramente è importante, è importante per me, cosa che non avrei potuto fare senza il microcredito. Ripartire, ma poi ripartire non per l'oggi, ma ripartire con prospettive per il domani. È l'opportunità per osare e oggi in commercio bisogna osare, ma oggi io so che vado a fare un, diciamo, a prendere, a fare un debito se vogliamo, chiamiamolo così perché è la realtà, però cosciente che il mio lavoro, sono cosciente che il mio lavoro sarà in grado di ripagarlo e anzi di permettermi di fare ulteriori investimenti. Quindi è un modo per rimettersi in gioco in maniera un po' più spensierata.